L'Italia inizia con le riaperture dal 26 aprile e quanto emerso ieri dalla cabina di regia ministeriale. Per la prossima settimana è attesa la firma del Premier Draghi sul decreto che detterà la tabella di marcia. Il Governo ha preso un rischio, un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati, che sono in miglioramento, ma non in miglioramento drammatico, sono in miglioramento. Questo rischio che il Governo ha preso e che sicuramente incontra le aspettative dei cittadini però si fonda su una premessa che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente. I primi a riaprire saranno bar e ristoranti, anche a cena, purché esisti all'aperto. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, infatti, le interazioni tra persone all'aperto non incidono sulla trasmissione del virus. Un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena. Rimane l'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento ed è stato confermato anche il coprifuoco dalle 22 alle 5, prorogato lo stato d'emergenza per altri due mesi, al fine di rinnovare lo smart working ed allestire i centri vaccinali. Il dato delle dosi somministrate sarà fondamentale per determinare, di settimana in settimana, le restrizioni regionali. Saranno nuovamente consentiti gli spostamenti tra regioni gialle, mentre per quelli tra regioni a maggior rischio occorrerà una sorta di pass che attesti la somministrazione del vaccino. Nelle zone gialle e arancioni, inoltre, via libera alle lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine grado. Noi siamo in condizioni oggi di disegnare con cautela, con giudizio, però un percorso positivo che dia un segnale di ripresa al Paese, un percorso di natura graduale che si avvierà già il 26 di aprile che vedrà come elemento ancora una volta prioritario la tutela e la salvaguardia della scuola. Via libera anche a cinema e teatri con capienza limitata e dal 1 maggio potrebbe tornare il pubblico negli stadi. Dal 15 maggio poi riapriranno stabilimenti balneari e piscine, mentre il 1 giugno sarà la volta delle palestre e i ristoranti potranno accogliere i clienti anche al chiuso. L'Abruzzo, sebbene l'incidenza del virus continui a preoccupare nell'Aquilano, potrebbe tornare zona gialla. Il presidente della regione Marsiglio ha dichiarato che i dati sono promettenti da cinque settimane e che la provincia di Pescara sarebbe quasi da zona bianca. Anche questa settimana però si è deciso per la zona rossa in alcuni comuni. Nereto, Campli, Morrodoro, Ancarano, Mosciano Sant'Angelo e le frazioni di Castelbasso, Mulano e Colle di Giorgio nel comune di Castellalto per quanto concerne il Terramano. Nell'Aquilano invece in zona rossa Rocca Casale e Collarmele.